Come si può allargare la forma d'arcata, espandere la forma d'arcata, fare spazio per i denti, risolvere determinati cross bite? Questo è il metodo più utilizzato, più antico, un pochino più invasivo, più scomodo, che può avere determinate controindicazioni, però funziona benissimo. Queste mascherine è un altro metodo alternativo assolutamente efficace per determinate problematiche, quindi non è detto che se il vostro figliolo ha il palato un po' stretto debba per forza usare questo, può usare anche queste. Informatevi, vi scrivo alcune cose sul blog, se avete bisogno chiedete, buona serata a tutti!